Ci sono bimbi che non hanno da mangiare, non possono curare le loro malattie e non possono giocare. Ci sono persone anziane che non riescono a sopravvivere, non possono comprare i farmaci e hanno bisogno di assistenza. Se oggi accade tutto ciò, cosa ne sarà di noi piccini? Promuoviamo una coesione sociale per lottare contro la corruzione, il malaffare, l'illegalità, il crimine. Costruiamo insieme un futuro migliore. Io per Benevento e tu?